NAPOLIN! NAPOLIN! E' il mio forte di qua per Siena! Date un grande a vita e date un'opera che si vede a questa notte! Fate! E' il mio forte di Siena! Chi si è progettando l'inizio? Chi si è progettando l'inizio? La musica che mi fa la mia è quella di Michele Tempese! Ragazzi, buona serata! Condi il documento a tutti! Ma pure la notte prima del Palomino in Siti! A fare Gassimio tra Enola, Siena e i suoi 18 anni! Chi si è arrivata? E' una buona vita! E' una buona vita! E' una buona vita! PerepàutaWhat Jessieà! Grazie Bologna! E' una buona vita! Sembra! Ottieni Artù lei dedicati e vista il resto Tor d'un po' E' un Gord è di 62 maione! E' un grata di siena! E' un forteeeeee! E' un grata di senti долi 52 maione... E' un grata di 30 minz, Il mio figlio è un po' meno di un po' la pezzella dove sono le bottiglie, dove sono le mani di Gnappoli! Il mio figlio è un po' meno di 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 uno! Il mio figlio è un po' meno di un po' meno di uno!